e bentornati in questo nuovo video oggi sono tornata con la lista di libri con cui parteciperò alla Book Squad Christmas Challenge è una sfida a cui partecipo ormai da diversi anni, circa tre anni ossia da quando è stata organizzata la prima volta e ogni anno sono sempre molto contenta di partecipare è una sfida che si divide tra dei libri da leggere appunto 5 categorie di libri da leggere più ci sono delle foto da caricare sul proprio account Instagram in base a determinate categorie iniziamo subito col farvi vedere i libri la sfida di lettura inizia l'8 di dicembre e termina il 6 di gennaio e vi faccio vedere cosa ho deciso di leggere per questa sfida così, un libro della tua comfort zone per questa sfida ho scelto per questa categoria per questa categoria ho scelto forse un giorno di Colin Hoover Colin Hoover è un'autrice che scrive libri romance non è solo ed esclusivamente romance perché tutte le sue storie sono contornate da determinati argomenti anche piuttosto spinosi da trattare lei è sempre in grado di raccontare queste storie con una grande delicatezza 2. Albero di Natale un libro che ti illumina per questa categoria ho scelto Regina Rossa di Victoria Eveyard un romanzo distopico che in realtà ho già letto ma di cui non ricordo assolutamente nulla il primo di una trilogia in origine ora non so quanti libri siano vorrei rileggerlo e leggere i seguiti più che altro per terminare questa serie ho scelto anche questo titolo perché probabilmente conoscerete tutti la copertina che è veramente molto bella e è un po' luccicante e va bene Popazzo di Neve un libro con la copertina dai colori freddi per questa categoria ho scelto Shatter Me di Taere Mafi anche questo libro l'avevo già letto ho deciso di rileggerlo per terminare tutta la trilogia che ho già in libreria e fare una sorta di maratona di questa trilogia non è molto grande la copertina ha dei colori freddi e ho deciso di rileggere questo anche perché è un romanzo distopico e sto riavvicinando a questo genere dopo un po' di tempo in cui l'avevo un po' abbandonato quesito numero 4 un libro che ti hanno regalato e ancora non hai letto Flow degli imperfetti di Cecilia Ahern mi è stato regalato questo titolo probabilmente un anno fa e ancora non l'ho letto più che altro perché non avevo idea di quando sarebbero usciti i seguiti è uscito il seguito di questa serie di Cecilia Ahern ho letto P.S. I Love You e Scrivimi Ancora due romanzi che mi sono piaciuti veramente molto e ho deciso di dare una possibilità a Cecilia Ahern per quanto riguarda il genere distopico categoria numero 5 calendario dell'avvento un libro che volevi leggere da tanto tempo per questa categoria ho scelto due libri più che altro perché uno quello che diciamo originariamente faceva parte della lista ossia L'inconfondibile tristezza della torta al limone di Amy Bender l'ho già letto e apprezzato veramente molto l'ho terminato in questo fine settimana e non è neanche molto grande ma neanche così tanto piccino però ho deciso di mostrarvelo ugualmente anche se ve ne parlerò in qualche altro video sicuramente ma a prendere il suo posto ci sarà un'altra rilettura perché oltre a essere la TBR dei distopici anche la TBR delle riletture dei primi libri delle saghe ho scelto Fallen di Lauren Kate già letto e apprezzato qualche anno fa quando usci in questa edizione vintage ho recuperato il secondo libro della serie ho deciso di riprenderla e terminarla a Dio piacendo è una serie che parla di Angeli Caduti è un libro che ho in libreria da tantissimo tempo che volevo rileggere da tantissimo tempo e ho colto l'occasione per mostrarvelo in questa occasione bene ragazzi la lista di libri termina qui fatemi sapere se anche voi parteciperete a questa challenge se parteciperete fatemi sapere cosa avete intenzione di leggere ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao